Centrodestra presenta un progetto di legge, impresa Abruzzo, crescita e sviluppo, come è nata questa idea? Nasce purtroppo dalla constatazione che tutti i fondamentali economici dell'Abruzzo, se non ci fosse il traino dell'automotive e del polo del sangro, sono in netta negatività, creazione di nuovi posti di lavoro, recupero della disoccupazione, nuove imprese che aprono, tassazione locale. Ricchezza pro capita degli abruzzesi. Ora a questo punto non abbiamo atteso prima la proposta di maggioranza, questa famosa legge regione facilissima, sono due anni che giace in commissione inapprovata e a questo punto abbiamo surrogato un'assenza. Abbiamo presentato noi un testo di 11 articoli facilmente comprensibili che solo in due misure richiedono copertura finanziaria, ovvero l'accesso al credo e l'abbattimento della tassazione regionale, che oggi sarebbe indecoroso non fare perché siamo al pareggio di bilancio, e quindi non vedo perché non dobbiamo rimettere in tasca gli abruzzesi i soldi che ci hanno dato per raggiungere il pareggio di bilancio in sanità. Gli altri nuovi articoli sono articoli di esemplificazione, certezza sui tempi di rilascio delle autorizzazioni, uniformità di giudizio, unico responsabile che deve dare risposte a chi oggi coraggiosamente ancora può pensare di creare lavoro in una bellissima regione quale è l'Abruzzo. Speriamo che si comprenda che l'emergenza lavoro nella nostra regione non è un tema di sinistra, di destra o di centro, ma è l'emergenza della regione.